Ehi tu, guarda che profe, è una designazione divina. La Tempest volgora il nemico al contatto e poi fringe anche i suoi decidi. La Seeker è una mina sciocca. Cerca il nemico più vicino e lo paralizza al contatto. Un colpo più uccisioni. Chiamala efficienza letana. Prophet, un bastardo affascinante e distruttivo. Cominciamo. Va all'indicatore e ti farò entrare in modalità. Un nemico è venuto a salutarti. Accoglilo con la Seeker. Ecco la ricetta dello str... Ok, qua giù c'è un gruppo di pezzi di merda. Guarda. Manda la Seeker. Se la faranno sotto. Ti toccherà a rip... Un pandemonio. Ammazza quei coglioni prima che scapiscano tutto. Wow, ci sai fare con i giocattoli. Cambiamo le carte in tavola. Che succede se Charlie ha uno di quei cosi? Eh? Prendi appunti. Quando hai una Seeker alle crisi... Nervi saldi, ma fai fredda. Esita e sei griglio. Tieni il dito sul grilletto, soldato. Non abbiamo finito. Attenzione! Spara a quell'affare del cazzo! Se sei ancora vivo, le Seeker non hanno più segreti per te. Bene. Adesso puoi imbracciare la tua cazzo di Tempest. Bene. Ora si fa sul serio. Questa bestia spara scariche elettriche. Stordisce sul colpo. Prova a friggere quel coglione laggiù. Bel colpo. Breve lezione di scienza. Se fosse stato nell'acqua, adesso sarebbe morto. Altrimenti, devi beccarlo due volte. Prima per stordirlo. Poi per ammazzarlo. Svelto. Sparagli ancora. Gli piacerà. Occhio! Dove ce n'è una, ce ne sono molte. Benvenuto alla griglieria del sergente. La specialità del giorno? Combo di Tempest. Da leccarsi i baffi. Il tuo tavolo è pronto. Accomodati all'indicatore. Guarda che bel gruppetto di nemici. Rifletti. Basterebbe colpire quello al centro. Scentralo e darà la scossa ai suoi amici. Li hai storditi alla grande. Adesso imbottiscili di proiettili. Mi piace l'odore di stronzi fritti al mattino. Profuma come... come di vittoria. Ok. Ci sono dei cattivi nascosti qui dentro. Nessuno può toccare il mio rosè. Nessuno. Schiancia una Seeker verso qui. E procedi alla vendemmia di gruppo con la Tempest. Ok, genio. Adesso seguiamo quell'affare e vediamo cosa prova. Vedono quegli strumenti. Già quello riuscita. Oh sì, un bagliore fruttato. La battaglia per l'Alfos è vinta. Ma la vittoria non sarà completa finché non romperemo tutte le bottiglie. Invia la Seeker. C'è una cosa che mi piace di tutte queste tue modi. Posso usare la sezione dei cognacri. www.beposite.com.arbe. Ouff! Come! Ouff! Ah! Ouff! Sì. Sì. Pare che i cattivi abbiano dei rinforzi. Elicottero in arrivo. Organizziamo un piccolo incontro. Portiamo la serie di punti? Niente di nuovo. Ogni uccisione vale dei punti. Continua a eseguirle fino a raggiungere l'uscita e ottieni una serie di punti nuove. Ma se muori vai in posizione e poi ricominci. Da zero. La prima metà è stata fantastica. Ora vogliamo il seguito. Sì. 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 Mina Mesh rimossa. Torque terminato. C.U.A.B. ostile rilevato. Nomad sembra morto. Uccisione registrata. S.U.A.B. 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 Torque ucciso. E' finito. N.U.A.B. Oh, no. Morte confermata. Mina Seeker pronta a far danni. Mina Seeker attivata. Recon deceduto. Ludista rimosso. E' finito. UAB pronto. UAB in zona per fornire sorveglianza aerea. E' morto. UAB stabilito. RC-XD ostile individuato. Seeker disponibile. UAB. 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 Mina seeker in campo. Rikon deceduto. Nemico eliminato. E' finito. E' finito. UAB pronto. UAB nemici multipli nello spazio aereo. FD, Fio, file individuato. Uccisione. RC-XD, ostile individuato. Piazzo una Mina seeker. CUAB nemico nello spazio aereo. Minaccia rimossa. 또 1-3-4-3-4-2-3-4-4-4-4-4-4-4-6-4-4-4-4-4-4-5-3-4. E' finito. Dio. 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 Ok Lucy! No, ti prego, non portarla via! Non fate del male, Lucy! Bello, non portarla via! Gratare! Non portarla via! Non portarla via! Si!